Vincere questa partita in mezzo a queste due contro Basilea per prendere questa fiducia per il secondo tempo in Svizzera. Tu hai giocato un'ottima partita anche oggi, questo pallone non vuole entrare, sfortuna anche questa volta, a palo non è voluto entrare. Sì, peccato che non riesco a fare gol, aspetto quello momento molto, voglio soprattutto fare gol qua in nostro stadio con i nostri tifosi ma l'importante era che abbiamo vinto oggi. Parlavi appunto dei nostri tifosi, i nostri tifosi che poi a fine partita vi hanno voluto proprio sotto la curva per ringraziarvi e darvi anche la carica in vista della partita di Giovedì. Sì, noi tutti insieme siamo venuti così lontani in stagione, giochiamo ogni tre giorni e tutte queste cose sono importantissime, siamo tutti insieme perché possiamo fare la grande cosa. È una Fiorentina che vada avanti, si giocherà il tutto per tutto a Basilea per cercare di conquistarsi la finale di Conference. Sì, questa è un'opportunità storica per questo club, andare in due finali e secondo me siamo capaci di vincere questa partita in Svizzera e andare in finale. Grazie. Grazie. Grazie Josip. Grazie.